Ben ritrovati con l'edicola di Sky TG24, andiamo a ripercorrere la giornata che ci siamo lasciati alle spalle, così come viene raccontata dai principali quotidiani. Il mattino di Puglia e Brasilicata, altra apertura dedicata al Medio Oriente, Stati Uniti chiedono la pace e poi danno 8 miliardi a Israele per la guerra, sintetizzata così la giornata.